Ciao a tutti, oggi faremo i macarons. Sembrano difficili, e lo sono, ma noi cercheremo di farli divertenti e facili. Ciao! Dimenticavo, se siete nuovi di questa pagina, ricordatevi di iscrivervi qui sotto. Ciao! Benvenuti alle ricette di Lolo. Prima di iniziare ci dobbiamo disinfettare le mani. Bene, bene. Adesso incominciamo. Gli ingredienti di oggi sono... La preparazione degli ingredienti è molto importante per questa ricetta. Gli albumi vanno messi in frigo da 1 a 5 giorni. Noi li abbiamo messi 2 giorni. Quando li mettete in frigo, ricordatevi di mettere una pellicola di plastica e fate dei buchini dentro. 30 minuti prima di lavorare gli albumi, ricordatevi di tirarle fuori dal frigo. La farina di mandorle deve essere bianca e finissima, per questo la lavoriamo a frullatore tantissime volte. Questo colorante è fatto di lamponi, l'abbiamo fatto noi. Se volete, la ricetta è godata alla fine del video. Adesso ci occupiamo degli ingredienti secchi. Più precisamente, mettiamo le mandorle dentro al frullatore e le frulliamo per farli molto fini. Quando frulliamo, accendiamo e spegniamo, così le mandorle non si scaldano e non esce il loro olio. Abbiamo aggiunto anche lo zucchero a velo. Adesso passiamo agli ingredienti secchi dentro il colino, tante volte per renderli più fini. Come vedete, sono rimasti i grani grossi. Adesso ci occupiamo degli ingredienti umidi. Adesso incominciamo a frullare a velocità media o alta. Aggiungiamo un pizzico di sale. A questo punto, poco coca, aggiungiamo lo zucchero. Questo è il momento in cui mettiamo l'essenza di frutta e il colorante. Noi abbiamo tutti in uno. Quando raggiungi questa consistenza, è pronto. È pronta. Questo è il momento del macronage. Quando si uniscono ingredienti secchi e umidi. Iniziamo prendendo un terzo della parte umida e la mettiamo nella parte secca. Adesso uniamo tutto. Adesso miscoliamo e giriamo con questo movimento 30 volte. Bisogna miscolare tanto, ma non troppo, fino a riuscire a disegnare un otto. Adesso abbiamo preparato la sac a pesce. Questo è il momento in cui mettiamo l'essenza di frutta e il colorante. Noi abbiamo tutti in uno. Mettiamo il preparato dentro la sac a pesce. e poi mettiamo il cuore. adesso li mettiamo da parte a riposare non in frigo è passata un'ora per vedere se i macaroni sono pronti passiamo il dito e se tocchiamo una plastichina vuol dire che sono pronti sono pronti mettiamo in forno preriscaldato a 150 gradi per 15 17 minuti vi ricomando non aprite mai il forno prima dei dieci minuti di cottura questi sono i nostri macaroni al matcha ci metteremo dentro una crema con mascarpone e burro a temperatura ambiente e matcha questi sono i nostri macaroni al lampone li farciremo con il mascarpone burro a temperatura ambiente e i lamponi che abbiamo usato per fare il colorante abbiamo unito tutti gli ingredienti adesso aggiungiamo lo zucchero a velo quanto basta adesso riempiamo la sacca al pesce e farciamo i macaroni ecco qui il nostro macaroni i macaroni sono pronti questa è la parte più difficili aspettare 24 ore per mangiarli adesso li mettiamo in frigo per una notte questi sono stati i miei primi macarons spero che vi piacciono e non vedo l'ora di vedere i vostri grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.